Dopo 5 anni i cittadini di Vistoli devono avere pazienza, che piano piano si farà tutto. Ci vuole tempo, abbiamo perso degli anni perché i commissari precedenti non hanno fatto quello che dovevano fare, poi Errani veniva dall'Emilia Romagna e qui non poteva importare il sistema Emilia Romagna perché qui le case e le costruzioni sono di tutto altro tipo. Ancora pazienza, così il primo cittadino di Visto tra i centri più colpiti dal sisma del 2016 si rivolge ai propri cittadini. La ricostruzione del piccolo borgo è iniziata ma, soprattutto nel cuore del paese, necessita ancora di tempo. La ricostruzione fuori del centro storico è partita e viaggia molto bene perché abbiamo 170 progetti tra i quali molti sono partiti e molti stanno in partenza. Per quanto riguarda il centro storico abbiamo fatto un'ordinanza speciale che comprende la parte esterna di Visto, la parte dove sta il Parco Nazionale, la Chiesa di San Francesco, l'Istituto Divino Amore, la Chiesa Santo Spirito, un privato e l'arco e la portiera di entrato a Visto. Proprio per quello che riguarda la piazza, tra le priorità dell'amministrazione c'è un giorno già segnato sul calendario. L'8 dicembre vorremmo, mettiamola un po' così, vorremmo inaugurare la nuova piazza di Visto dove praticamente ritorneranno tutti i commercianti, ritorneranno gli uffici tecnici, ci sarà il museo con i maschritti di Leopardi, la biblioteca e un centro aggregativo, gli ambulatori medici. Perciò abbiamo riportato tutto, anche una chiesa, praticamente abbiamo ricostruito in miniatura la piazza di Visto. Certo, quella è una cosa provvisoria che poi, appena pronta la nostra piazza, che è una delle più belle d'Italia, ritorneremo a viverla tranquillamente.